Ciao ragazzi sono sempre Cino2008 e benvenuti in un nuovo video e in un nuovo gioco e questo nuovo gioco si chiama Dragon Mania un po' per piccoli però è allo stesso video e spero che vi divertiate in questo video e io lo dirò anche alla fine incominciamo a giocare al fatto avete già capito dal titolo avete già capito dal titolo che non serve e si parla proprio di draghi ecco il cavolo però allora qui io ho un trago un trago vento un trago un trago un trago un gatto 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 capito un gatto un gatto un gatto un gatto e poi anche questo non me lo ricordo il drago fulmini il drago metallo il drago nede il drago ghiaccio il drago il drago il drago il drago albero e una e l'iguale questo non me lo ricordo il drago come faccio io il drago 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 e... l'ho capito che buco guarda il mio uomo che bello e questi possono fare gli scontri e le battaglie li faccio sempre con facile e andam di Але Non c'è l'ultimo Non c'è l'ultimo Non c'è l'ultimo Non c'è l'ultimo Beh... E' che caos sta complicita Poi è vero, una cosa che non mi ricordava E' che quando si sta quasi per... ...e... ...finire di costare Mi valoriscono il prezzo Raghi, per favore Non c'è l'ultimo Non c'è l'ultimo Non c'è l'ultimo E che caos Non c'è l'ultimo Vabbè dai Stare qui a aspettare... ...non c'è l'ultimo Non 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 c'è l'ultimo Beh... Vabbè... Non mi ricordavo che si perdeva alcune cose. Ciccugiu, grazie. Non nutriam. Va fi però è... che mi era lento. Mamma mia. C'è giallo! 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 All right. Faccio una piccola. Ora vogliamo vedere. Andiamo a guardare. Un'ultima. E questo è un'ultima. Allora. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha tutte e due. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Uno ce l'ha. E l'altro è non ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. Allora Grazie a tutti. Ah, questo è il vapore, salamandra, questo è il dragopolvere, ghiaccio, neve e fabbolo. Ah, questo è il dragopolvere, questo è quello lì, il più vicino a destra. Fa troppo ridere, sentite il primo, questo è il, fa troppo ridere, facciamo 150. Questa è la sua, la sua, la sua, la sua, la sua. Spero che vi state divertiti e cielo 2008 vi auguro una buona nottata. Ciao.